Cacciati senza colpo Gli anarchici vanno via E partono cantando Mi aspettavo un tesserino, uno straccio di documento Cosa c'è scritto in quel blocchetto? Anni e anni di pedinamenti Luigi Fabri, anarchico, nota a Fabriano, nelle Marche Eh Babbo, nessuno potrà mai privarci del mondo libero e solidale della nostra famiglia Sai Lucia, alcuni sostengono che un rivoluzionario non debba farsi una famiglia Troppi rischi Ma la famiglia aiuta a lavorare più in modo intenso, capisci? Quanto ha dovuto patire Bianca, tua madre Voglio pubblicare due tomi Dal titolo Il pensiero di malatesta Eh già Ha tutti i suoi interventi, sai, sì Su pensiero azione Su umanità nuova E poi ancora Sull'associazione E poi ancora sulla rivendicazione La rivoltè La rivoluzione sociale La canaglia Carlo scusa se insisto Ma tu mi ricordi qualcuno? Ma chi? E tu? Ma te lo dico io chi ti ricordo Chi? Il tuo compagno Carlo Frigerio Che non vedi da tempo 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 Grazie a tutti